Sto discutendo in questi giorni con un avventista, un partecipante delle chiese avventiste, sapete che sono una variazione della immensa quantità di chiese luterane. Lutero creando l'idiozia del sola scrittura ha creato naturalmente un mucchio di gruppi e gruppuscoli, ognuno in contrasto uno contro l'altro. E lui ragionavo anche sull'ecumenismo perché a noi cattolici da tanti anni viene insegnato che dobbiamo migliorare, dobbiamo partecipare, anche condividere i valori, le idee delle altre chiese religiose. Ecco, la loro risposta però è molto drastica. È vero che a noi è stato insegnato da Cristo Porgi l'altra guancia, ma loro ci rispondono che noi siamo Babilonia, che noi siamo i perversi, i cattolici, che noi siamo gli eretici e quindi ad una apertura che noi dovremmo fare nei loro confronti la loro risposta è sempre un calcio in faccia. Però naturalmente il nostro pontefice e tutta la schiera di altri simpatici postconciliari ci dicono che noi dobbiamo rispondere a quell'ecumenismo e quindi condividere i loro valori. Ebbene, andiamo a parlare un po' del Vangelo di Matteo perché lui, come al solito, prendeva il solito discorso del primato di Pietro perché loro ovviamente non possono tollerare che Cristo abbia dato a Pietro il comando e ha fondato su Pietro. Prima di tutto perché dice, ma San Pietro ha tradito Cristo, com'è possibile che Cristo dia il fondamento? Ma io l'ho spiegato tante volte, la Chiesa è per volontà di Dio, è costituita da uomini, è da Dio che naturalmente la fa vivere con il suo corpo mistico, però è costituita da uomini. Così ha voluto Dio perché gli uomini si convertissero, ma ha voluto che la Chiesa fosse fondata dagli uomini, da lui stesso che è uomo, anche se naturalmente è privo del peccato originale. E andando a parlare del famoso 16-18, che come sappiamo Matteo 16-18 è il fondamento del primato di Pietro e da lì in successione apostolica di tutti i papi, che sono guide della Chiesa, lui prendeva la solita dottrina falsa protestante per cui quel passo non significherebbe che Cristo fonda su Pietro la sua Chiesa, ma che la fonda su se stesso in quanto pietra angolare. Però se fosse da tradurre, intanto andiamo a leggere cos'ha il testo in italiano, se volete c'è anche la versione ovviamente originale che è greca, ma di fatto è stato tradotto bene dal greco, per cui non ci sono problemi. Bisogna vedere qualche versetto prima, perché vedete qual è il problema degli eretici? Il problema degli eretici è che loro prendono un singolo versetto e cominciano a fare la guerra del versetto. Estrapolando per il sola scrittura, per l'idiozia del sola scrittura, loro estrapolano un passo e non lo vedono nel contesto. Questo è il problema degli eretici fondamentalmente. Lui, io spero che lui sia in buona fede, gliel'ho anche detto personalmente in questi commenti, il problema è che la Chiesa in sé, per così dire, questi gruppi eretici non sono in buona fede, sono in mala fede per essere contro la Chiesa di Cristo. Andiamo a vedere qual era il fatto. Il fatto è che qualche versetto prima troviamo la famosa domanda di Cristo agli Apostoli, che dice voi dite chi dite che io sia? E voi sapete che Simon Pietro risponde tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Quindi Simon Pietro, qualche riga prima, qualche versetto prima, ha fatto la più grande confessione di fede, che gli altri non fanno. E' proprio per questo motivo che allora Gesù risponde, beato sei tu Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te l'hanno rivelato, ma il padre mio che ne cieli. La fede viene naturalmente, come sappiamo, dalla grazia, viene dallo spirito. Quindi capite come si collega il versetto? Ecco perché Cristo parla a Pietro. Perché Pietro è l'unico, pur sapendo, Cristo è uniscente, ovviamente che lui lo tradirà. Al netto di questo Pietro comunque, in quanto uomo, in quanto persona appunto di grande fede, a lui viene data appunto il comando di gestire la chiesa, diciamo, di portare avanti la chiesa. E dunque io te adico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Adesso andiamo a trasformare tutte, mettiamoci la traduzione come la vuole il nostro amico avventista e diventa così. Ma io ormai questi li conosco perché sono anni che discuto con questa gente senza risultati, perché poi i tesori di Geova sono più elastici di loro. Allora, andiamo a trasformarla come la vuole trasformare il nostro amico avventista. Diventerebbe, io te dico, tu sei Pietro e su di me, Cristo, Pietra, costruisco la mia chiesa. Ma voi capite, prima ancora che il desiderio eretico di distruggere la chiesa di questa gente, voi capite l'illogicità di questa cosa. Questo spiega perché io dicevo che le eresie sono tutte contro la ragione. Prima ancora che contro il cristianesimo e contro la fede, sono contro la ragione. Perché se io traducessi in questo modo, tu sei Pietro e su di me che sono una pietra, Cristo, costruisco la mia chiesa. Ma voi andate da un amico e parlate così, ma questo dice, ma voi siete scemi. Cioè, scusate, io non sto dando dello scemo a Cristo, ma è lui che dà dello scemo a Cristo. Ma che logica ha a dire, io sono Mirko e su te baldassarre, costruisco la mia chiesa. Invece la logica è quella che vi è anche nel testo greco, qui dice tu sei Pietro, Petros, e taute te Petram, e poi c'è il verbo in greco, con l'omofonia di Pietro e Pietra. È logico che nell'originale greco, come l'ha detto Cristo, ci sarà stata l'omofonia tra appunto il nome di Pietro e la Pietra. Capite il discorso? Quindi vedete a che punto arriva l'illogicità, che viene insegnata ovviamente in queste chiese in mala fede e che una persona, mi auguro in buona fede, come questo commentatore, ovviamente ha appreso, ha appreso, oh che bello, che bello, e poi tutta quella sfilza di commenti sull'Apocalisse, su Babilonia, che sarebbe la chiesa cattolica, a me viene a dire che sono le chiese eretiche protestanti, Babilonia, ognuno può applicare a quello che vuole. Capite il discorso fondamentale? Quindi questo è il problema di fondo, che cosa fanno gli eretici? Sganciano la dottrina, sganciano il versetto dal suo contenuto, quindi se lo si legge nel totale, si parte addirittura, se volete, magari anche dai primi versi del capitolo 16, ma comunque si arriva alla professione di Fede di Pietro che lo porta, dunque porta Cristo, Cristo voleva già farlo ovviamente, non è che dipenda dalla professione di Fede di Pietro, attraverso questo, da parte di Pietro riconosce il Cristo come solo lui, il figlio di Dio, il Messia che doveva venire, tu sei il Cristo, figlio del Dio Vente, allora Pietro su di te, Pietro, su questa pietra che sei tu, Pietro, fonderò la mia chiesa, le potenze degli inferi non preveranno su di essa, quindi non provateci, cari eretici, anche all'interno della chiesa cattolica, la chiesa non la distruggerete mai, potrete cercare di modificarne la dottrina, ma non riuscirete neanche a fare questo, le potenze degli inferi non prevarranno su di essa, e le chiavi del regno ti consegnerò tutto ciò che leggerai sulla terra, sappiamo l'istituzione del sacramento della confessione, e della possibilità anche per esempio dell'indulgenza plenaria, ed ecco qua, e se volete leggiamo anche quello che è il commento, le note della Bibbia di Gerusalemme, Pietro, il cambiamento di nome forse avvenuto prima, confronta Giovanni 1,42, Marco 3,16, la parola greca Petros servia solo come nome personale, prima che Gesù chiamasse così il capo degli apostoli, per simboleggiare il suo ruolo nella fondazione della chiesa, capite? È evidente che non è, non può avere una logica dire tu sei Pietro e su di me, Pietro, inteso come Cristo fonderò la mia chiesa, non ha logica, non ha logica alcuna, ha logica invece fare, quindi dare un nuovo nome a Pietro e da lui associare il concetto di Pietro, Petros in greco. Il suo corrispondente aramaico, Kepha, Roccia, è attestato almeno una volta in un documento di Elefantina 416 a.C., c'è stato quindi un cambiamento, un nuovo nome a Simon Pietro, appunto figlio di Giona, che viene dato appunto a Pietro stesso, proprio per rendere questo concetto anche attraverso l'allusione della parola di fondare su di lui, sul collegio apostolico anche, ma in principe come principi tra gli apostoli, su Pietro, il fondamento della chiesa cattolica, dell'unica chiesa fondata da Cristo. Ricordo perché la chiesa avventista, con tutto rispetto per loro come persone, non è, è una chiesa che produce male, produce male in quanto produce appunto eresie, produce uno sganciamento totale dal primato, appunto, che Cristo invece ha segnato a Pietro. Attenzione dunque a queste affermazioni, ricordo e concludo per chi piacesse approfondire, poi io farò dei video sulle apparizioni mariane, perché ci tengo particolarmente che Bruno Cornacchiola, date a cercare chi ancora non conoscesse la storia di questo uomo, Bruno Cornacchiola era stato, si fa per dire, educato, lui era ateo, era comunista, però va con le brigate internazionali in Spagna a combattere contro Francisco Franco, poi perdendo, sappiamo, la guerra civile, e lì conosce un avventista, un po' come il nostro amico qui che scrive, e addirittura progettano di uccidere il Papa, quindi questi sono gli avventisti, lui unendolo chiaramente al comunismo, lotta contro il cristianesimo, ecco poi, come sappiamo, ma vi lascio a voi la visione ad Ostia nel 1947, il 12 aprile, alla famosa apparizione delle tre fontane, e da quel momento in poi cambia radicalmente la vita del Cornacchiola, come cambia quella di San Paolo, che si dice fosse stato decapitato nei pressi proprio delle tre fontane, quindi questo per concludere un po' il discorso sul primato di Pietro, vedete sono bastati nove minuti per smontare le stupidate dei gruppi eretici.